apriamo finalmente la nostra rubrica dedicata alla cultura culturalmente che come sapete fa un percorso durante la settimana parte dai libri lunedì passa per il teatro il martedì vi porto al cinema il mercoledì mentre il giovedì ci dedichiamo interamente alle mostre il venerdì è la giornata invece dedicata alle opere d'arte di maggiore rilievo della settimana ebbene oggi invece di parlare di testi come dire ecco in maniera specifica andiamo a parlare del libro del libro di federico bianca che ho il piacere di ospitare oggi in questi in questi studi sono davvero molto diciamo ecco orgogliosa forse il termine per l'ospitalità è un piacere un piacere siamo a casa di amici non potevamo che fare altrimenti il titolo del libro è riscatto un titolo molto forte partiamo da questo il titolo in realtà è volutamente ambiguo perché riscatto se ci facciamo caso è una parola in realtà ambigua perché almeno due significati riscatto magari possiamo pensare subito a riscattarsi nel senso di rialzarsi dopo una caduta e questo è sicuramente un significato positivo ma anche un risvolto negativo questa parola che il riscatto magari può essere il prezzo da pagare per un'azione criminale pagare il riscatto quindi in realtà come succede nel racconto che dà il titolo a questa silloge riscatto appunto è un una valenza ambigua che starà al lettore scoprire e seguire i personaggi per vedere se riescono a rialzarsi o a perdersi definitivamente questa è una cosa molto molto curiosa devo dire che anche tu sei molto bravo a raccontare perché insomma mia io lo voglio già leggere insomma è una sicuramente un punto a tuo favore quello di raccontare step by step non far scoprire tutto come dire ai nostri amici invitarli alla lettura la prima volta che parlo insomma ecco da come dire in maniera molto oggettiva la prima volta che ho avuto modo di leggere il titolo di questo di questo testo e vedere l'immagine ho pensato anche che il titolo fosse molto attuale cioè come dire ecco adatto anche all'epoca che stiamo vivendo sì perché appunto a me piace porre i personaggi davanti a dei bivi esistenziali morali quindi da una parte magari c'è la possibilità la prospettiva di riscattarsi magari dopo un passato e un presente poco fortunati oppure dall'altra parte c'è la scommessa che invece è persa e quindi si perde definitivamente quindi questo in realtà è un tema eterno come dicevi tu è attuale ma è dal punto di vista morale sono sfide che insomma si affrontano periodicamente dobbiamo affrontare nella nostra vita nel nostro quotidiano e quindi ecco mi interessava focalizzarmi su questo aspetto creando magari ovviamente nei limiti del possibile questo è il mio impegno l'attesa un po di suspense vedere se andrà bene o andrà male sul filo del rasoio come si dire allora vorrei farti una domanda molto generale per non andare poi a raccontare troppi dettagli perché quelli ovviamente come dicevamo prima li scopriranno i nostri amici leggendo qual era il tuo desiderio sin dall'inizio nel momento in cui hai iniziato a scrivere questo libro cosa volevi comunicare beh in realtà è questo libro nasce come posso dirlo apertamente uno sfogo nel senso qua c'è tutta la mia passione tutte le mie passioni o se preferisci le mie ossessioni come dico sempre io scherzando quindi c'è tutto quello che ho amato studiato tutto quello che ha accompagnato la mia il mio percorso di persona di studioso di docente e quant'altro le mie passioni come possono essere il cinema la letteratura il fumetto la musica c'è un poco di tutto tutto quello che mi ha accompagnato e in questo libro bellissimo quindi le persone possono anche tramite queste forme di arte un po identificarsi no e beh la speranza è quella la speranza è sempre quella di catturare l'attenzione del lettore spesso appunto c'è un po possiamo parlare si parla di libri artefatti ho cercato veramente di mettere parlando delle mie passioni di essere genuino origine nei limiti del possibile originale poi stare al lettore decidere se una scommessa vinta o una scommessa persa mi piace questa possibilità data al lettore poi di interpretare come dire anche secondo una strada ben precisa no che può essere però diversa magari la mia dalla tua dall'interpretazione di un'altra persona quindi è bene mi piace quando come dire viene data un'interpretazione diversa no ma è la cosa più bella per chi si occupa di questo vedere come le persone reagiscono in maniere in maniere diverse io ho avuto durante le presentazioni durante gli incontri lettori che dicevano signi mi ha esaltato oppure addirittura sai un po mi ha intristito mi ha immalinconito quindi generare sensazioni contrastanti ciò che uno stesso racconto generi sensazioni diverse comunque una soddisfazione esattamente questo è importante perché è l'esempio lampante come dire potremmo definire un pilastro esemplare di un'opera d'arte perché anche un libro è un'opera d'arte che viene interpretata in base al pregresso espensiale no in base a quello che noi abbiamo come esperienze quindi lo proiettiamo come punto di riferimento e quindi in base a quello poi interpretiamo questa è una cosa che potremmo approfondire anche con magari in un tavolo con gli esperti sarebbe molto interessante la mia domanda a questo punto è prima di passare anche a un altro aspetto molto importante perché abbiamo aperto anche questa questo momento dicendo che tu sei vincitore anche di un premio ma prima di arrivare a questo ti chiedo potrebbe essere questo libro incamerato in un genere specifico oppure una contaminazione tra generi a questo punto beh guarda il genere è quello del racconto ovviamente della narrativa breve che è sempre una sfida perché tu hai a disposizione poche pagine quindi se non riesci a catturare l'attenzione del lettore è finita quindi mi piacciono molto ad esempio gli inizi in media stress quindi tu sei catapultato col protagonista nel mezzo dell'azione e poi sì come contaminazione di generi beh come accennavamo prima ci sono tutti i generi che mi piacciono c'è il noir c'è il gotico c'è il fantastico c'è il drammatico c'è la mia terra la sicilia c'è hollywood una certa idea di hollywood la golden hollywood degli anni 50 ma ovviamente non come fabbrica di sogni ma il dietro le quinte insomma ci sono ti ripeto tutte le mie passioni quindi questi racconti ti posso dire sono nati spontaneamente poi piaceranno o non piaceranno lo stabiliranno i lettori ovviamente stiamo parlando oggi del suo riscatto riscatto però è il titolo del libro che è stato anche vincitore di un premio molto importante sto parlando del silver book vinto al premio letterario roma international 2024 dell'associazione pegasus cattolica che ha in qualche modo sancito anche una una tua vittoria interiore se così vogliamo giusto federico sì riscatto è anche riscatto per il suo autore evidentemente fa sempre è inutile nascondercelo ci mancherebbe fa sempre piacere avere un riconoscimento prima di questo avevo vinto il primo premio etna book una rassegna importante di livello nazionale ospitata proprio dalla mia città di origine che è catania questo a settembre del 2023 poco dopo nel novembre diciamo sono stato insignito del premio filippo reale che è una diciamo una manifestazione organizzata dal parco archeologico di catania insomma appunto per le personalità che si distinguono nel mondo della cultura della nostra terra quindi insomma essere qua ovviamente fa piacere complimenti complimenti davvero questo penso possa essere ad esempio anche di incoraggiamento per tutti i futuri scrittori no tutte le persone che vorranno magari a coscrivere un libro fare questo tipo di carriera letteraria e magari alle volte sono un po scoraggiati perché sicuramente non è un mondo semplice no è un percorso molto duro bisogna studiare bisogna aggiornarsi bisogna saper scrivere che anche questo insomma forse non viene sottolineato abbastanza ma è importante ribadire assolutamente io posso dire semplicemente che bisogna affidarsi a professionisti competenti io se mi permetti ne approfitto anche per ringraziare chi mi ha aiutato in questo percorso che è la professoressa sissi sardo dell'università di catania che è stata la mia prima lettrice che mi ha incoraggiato quindi se siamo qua anche per colpa sua poi la scrittrice e poetessa marilina giacuinta un nome anch'esso di livello nazionale che mi ha onorato della sua introduzione l'introduzione al libro la scritta lei e poi lei mi ha affidato a un editor di altissimo livello che il dottore Antonio Celano infatti quello che tendo a dire è che non c'è differenza tra pubblicazione e autopubblicazione nel senso che purché ci sia un lavoro di editing serio alle spalle il dottore Antonio Celano ha veramente curato con grande amore questi racconti li ha ripuliti e impreziositi e poi ovviamente dulcis in fundo l'editore Fabrizio Felici della Felici Editore di Pisa che ha creduto in me insomma ha lanciato questo pargolo allora io intanto ti chiedo ti dico grazie perché hai approfittato anche tu per ringraziare persone che ti sono state vicino e secondo me è la parte più importante questa riconoscere come direi che ci sono state delle persone che hanno creduto in noi io volevo chiedere alla regia la cortesia di rinviare la foto o l'immagine e la copertina perché volevo parlare anche dell'immagine perché devo dire che un'immagine come si suol dire riprendo questo detto vale molto di più di mille parole parla si esprime molto di più delle parole cosa vuol dire questa foto? è un'immagine in realtà che racchiude alcuni dei temi delle atmosfere del libro, dei racconti quell'atmosfera noir sicuramente o anche gangster ci sono un paio di racconti che perché mi piace molto questo genere sono ben racchiusi da questa immagine poi però in primo piano c'è per esempio i dadi ecco i dadi il destino e quello sì è una bella metafora i dadi sono appunto un lancio di dadi il destino evidentemente e ritorniamo appunto al discorso che facevamo prima della possibilità o meno di riscattarsi della possibilità o meno di cambiare il nostro destino quindi insomma questa immagine anche questa è farina del sacco dell'editor di Antonio Celano infatti vi dico questo piccolo aneddoto questa è stata la prima fotografia che lui mi ha mandato come possibile copertino ho detto basta non ne cerchiamo altre assolutamente questa è stata la prima e unica immagine ho detto mi sono innamorato ho detto va bene va bene questa anche perché ovviamente evocativa soprattutto i dadi ecco quello che mi colpiva di più era i dati erano i dati in primo piano quindi da lì poi la domanda quanto conta il destino all'interno del libro? e beh sai queste sono domande da un milione di dollari nel senso che sai noi oscilliamo sempre destino o provvidenza perché ovviamente se abbiamo una visione più ampia più di fede se vuoi dovremmo pensare a una provvidenza se no se siamo più laici credere al destino ma comunque c'è sicuramente inevitabile qualcosa al di sopra di noi c'è poco da fare automaticamente se è presente nel libro magari è presente anche nella tua vita visto che contiene un po' una scatola piena di ricordi anche di emozioni di momenti che hai vissuto in prima persona volevo ritornare su il concetto di media stress ma questa volta concentrarmi sul tuo in media stress che rapporto hai con la scrittura e come è iniziato tutto questo? quindi torniamo un po' indietro sai come molti ho... allora il libro che mi ha cambiato la vita l'ho letto a 14-15 anni durante le vacanze di Natale sai quando i professori ci assegnavano i 28 libri da leggere nel mio caso fu uno ma fu quello giusto il mio professore Alfio Maia al ginnasio durante le vacanze di Natale del quarto ginnasio ci diede da leggere dei classici a me tocco in sorte penso un po' te le anime morte di Gogol quel libro mi ha cambiato la vita quindi in realtà mi ha fatto capire la... cosa vuol dire la letteratura e l'arte prima sì mi piaceva leggere ma in realtà mi piacevano leggere di più fumetti cartone animatico un ragazzino della vita lo sport, il calcio eccetera eccetera invece quella è stata la classica folgorazione e da lì veramente ho scoperto l'arte e la letteratura quindi le anime morte è stato il libro posso dirlo senza tema di smentire che mi ha cambiato letteralmente la vita che mi ha avvicinato a questo mondo quindi è stato lì che hai iniziato a scrivere la prima volta che hai preso una pena in mano sì ma erano piccole così nulla di particolare poi in realtà ho cominciato a scrivere molto più tardi durante gli anni universitari anche grazie appunto alle tesi di laurea mi sono confrontato anche con la scrittura di saggi letterari dove ho pubblicato tre monografie ma di carattere appunto scientifico letterario poi intorno al 2010-2011 ho cominciato invece a scrivere in maniera un pochino più continuativa e anche grazie ad alcuni concorsi ho mandato a loro i miei racconti che sono stati appunto raccolte sicuramente molto utilizzati insomma quindi sono stati pubblicati e poi è venuta l'idea di alcuni raccoglierli in volume con l'aggiunta di inediti questo è quanto allora adesso volevo diciamo dedicare questo momento conclusivo a un messaggio che ti lascio come dire ecco inviare i nostri amici che ci stanno seguendo perché dovremmo leggere riscatto guardando proprio loro diciamo riscatto è perché è una parola che evidentemente riguarda tutti nella quotidianità più o meno drammatica più o meno importante il riscatto lo dobbiamo cercare tutti con la speranza poi di trovarlo e poi perché comunque in questi racconti ci sono vari generi io non do messaggi io sono della vecchia scuola cioè se ho un messaggio da mandare come dice quello vado alla posta non ci scrivo un'opera sopra quindi per me la cosa più importante è accattivare il lettore cercargli di dare un momento di piacere leggendo quindi non mi sento di essere uno di quelli che invece al contrario vogliono essere tra virgolette pesanti i messaggi, le riflessioni nascono dalla riflessione morale che può libera affidata al lettore ci sono vari generi insomma quindi mi auguro che come si dice per tutti i palati allora ero già convinta ma mi hai convinto ancora di più quindi abbiamo superato il 100% e dove possiamo trovarlo? così diamo anche... dappertutto lo potete trovare su tutte le piattaforme online Amazon, IBS ma potete anche tranquillamente richiederlo nelle vostre librerie fisiche la distribuzione è a livello nazionale quindi si può trovare dovunque ripeto sugli store online e nelle librerie fisiche si può prenotare dappertutto ringrazio te battute a parte perché mi dai questa possibilità di ringraziare pubblicamente un gruppo di amici e amiche che ha creduto in me quindi ribadisco se sono qua è anche per colpa loro quindi intanto come li chiamo io i miei due angioletti custodi cioè i ragazzi che mi seguono mi aiutano a gestire i social perché io appunto sarei alquanto imbranato che sono Simone Taormina dell'Angolo Fumettoso e Federica Giovannone che salutiamo assolutamente sì anche per colpa loro ribadisco che sono qua e poi amici veramente che mi hanno aiutato tantissimo per il libro che sono due registi Daniele Gangemi e Alfio Dagata presidente anche della società storica catanese un'istituzione importantissima di Catania e poi almeno due attori che mi hanno seguito e mi hanno aiutato con le letture con i recital con le presentazioni che sono Liborio Natali e Pari De Cicirello due attori veramente molto in gamba grazie a tutti grazie a tutti